E' la Fiorentina l'autentica rivelazione di questo inizio di campionato. Va a casa dell'Inter, capolista, gli fa 4 gol e li manda a casa. L'Inter, i nostri sospetti erano fondati perché nelle prime partite di campionato aveva incontrato sicuramente avversari abbordabili, e non aveva giocato un grande calcio come consuetudine di Mancini, era stata anche fortunata in alcune occasioni come in casa col Verona o a Carpi. La Fiorentina ha meritato, strameritato la vittoria, l'eroe di giornata è Nicola Kalinic, autore di una tripletta, e a tal proposito facciamo i complimenti a Daniele Pradè, perché comunque non era facile, la Fiorentina ha cambiato molti giocatori, ha concluso il ciclo di Montella, ha mandato via molti giocatori anziani e è ripartita con i giovani. Si pensava ci volesse più tempo, ma le sabienti mani di Paolo Sosa hanno plasmato una squadra già in grado di stare prima in classifica insieme all'Inter. Vediamo se sarà in grado di continuare questo sogno, questo percorso, e per quanto riguarda l'Inter chiamiamolo incidente di percorso, anche se Mancini dovrà rivedere qualcosa, perché comunque questa squadra non gioca assolutamente bene, crea occasioni grazie alla forza di alcuni giocatori, che però quando non sono in serata, evidentemente l'Inter subisce troppo. Che cosa ne pensate voi, che partita avete vista? Scrivetelo sotto nei commenti.